Tornano per la prima volta in una chiesa dopo la rivoluzione russa del 1917. Si tratta di tre icone di arte antico-russa della Galleria Statale Tetriakov di Mosca, che saranno ospitate dal 21 dicembre al 19 gennaio prossimi all'interno del Battistero di Firenze. L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell'Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori e del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Lo scambio culturale promuove contatti culturali, promuove curiosità da parte delle classi dirigenti, promuove quindi rapporti. Mi sembra un modo corretto e produttivo di fare investimenti nel settore della cultura e noi per questo abbiamo aderito a questa importante iniziativa. Le opere esposte nel Battistero sono la maestosa icona della madre di Dio Odigitria, realizzata alla fine del XIII secolo a Pskov, l'icona dell'ascensione del 1408 legata alla produzione artistica del maggiore pittore, d'icone della tradizione russa, il santo monaco Andrei Rubliev, e l'icona della crocifissione, eseguita da Dionisi nel 1500. In contemporanea, a Mosca, dal 19 dicembre 2011 al 19 marzo 2012, proprio alla Galleria Statale Tetriakov, saranno esposte per la prima volta due grandi opere di Giotto da Bondone e della sua bottega, dipinti provenienti dall'opera del Duomo di Firenze, La Madonna col Bambino del 1280-1290 e Il Politico di Santa Reparata. Direi che questo dialogo tra Firenze e l'Oriente sta nel nostro DNA fin dal Rinascimento, quando fummo il luogo di un tentativo di unione tra le chiese d'Occidente e le chiese d'Oriente, che a me poi non ebbe seguito, ma che è continuato lunghi secoli anche perché noi siamo i depositari di antiche reliquie che l'Oriente venera, a cominciare da quella di San Giovanni Crisostomo.